Cannocchiali che si usano per avere successo con le donne, telescopi. La città della permanente, Ariccia. Il primo trans, Lady Oscar. Corsa in ospedale per un parto prematuro, forse è nata. La nazione più lunga, l'Ungheria. La nazione che ti tutela di più, Paraguay. Il carciatore che usava solo l'accendino, l'Ungherino. Il famoso premio a cui partecipano solo i più brutti, Nobel. Ferro riconoscente, Grata. Il carciatore che faceva sempre tutto da solo, Treseghè. Grazie. 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 Grazie.